ragazzi una nuova amica paddo tv sono stra felice di presentarvi isabella ciao isa ciao ciao e parliamo di bike house bmw a varese nella centralissima viale belforte esatto qui di fianco a noi una concessionaria stupenda ricca di valori di contenuti di belle moto ma quello è sottointeso ma di abbigliamento di un sacco di cose però tanta passione per un brand che non ha bisogno di presentazioni ma del quale però ti chiedo di parlarci certo allora guarda noi siamo una realtà che nasce veramente dalla passione la passione dei due soci storici andrea e roberto che nel 2012 decidono di iniziare questa avventura passione che però è condivisa in famiglia che quindi poi è passata di generazione e adesso siamo qui sempre in crescita puntando a nuovi obiettivi e come dicevi tu circondati sempre da belle moto abbiamo iniziato qui come kawasaki bmw e poi siamo diventati invece monobrand bmw motorrad qual è il segreto secondo te isabella sei molto giovane ma si percepisce che sei cresciuta all'interno di questo mondo qual è il segreto di questo brand segreto di questo brand la passione che c'è dietro unita ovviamente alla qualità delle moto al fatto che parliamo di un brand che da sempre ha dettato i record e da sempre ha dettato regole su come dovevano essere le moto e da lì quindi ha tirato ovviamente dietro le persone che hanno continuato a crederci infatti è bello vedere clienti nuovi ma è bello vedere clienti che vengono e che cambiano la moto e che sono da noi da quando abbiamo aperto è vero le moto che sta incontrando pasquale ma sono tutte molto molto importanti però è chiaro che il gs ha dato un impulso non autorità del marchio all'avvicinamento mente anche di un altro pubblico a questo a questo marchio in maniera incredibile sicuramente la gs è un po il fil rouge che caratterizza motorrad perché parliamo di una moto che è nata veramente tantissimi anni fa festeggiato di recente sui 40 anni quindi non proprio d'altro ieri e che però continua a rinnovarsi continua a crescere continua a cambiare continua ad evolvere in qualcosa che nessuno aveva mai visto prima il gs l'r che chi aveva il 1250 magari all'inizio ci ha messo un attimo a digerire ma una volta provato è lampante la qualità della moto a livello tecnico cioè impressionante come e questo dice solo ai grandi brand nella storia dell'automotive per cui ci metto anche le auto come si riesca ogni volta alla presentazione un nuovo modello ad alzare quel minimo no in realtà è tanto no tanto si alza la siccella però non ce la fanno tutti i brand questa è una caratteristica di bmw assolutamente diciamo che questo è stato veramente un salto importante perché dal 1200 al 1250 la differenza estetica non era stata così dirompente mentre qui veramente sono stati scioccati anche i grandi appassionati però abbiamo visto proprio la corsa a volerla provare a voler vedere le differenze a voler capire ed effettivamente i numeri poi a livello nazionale e internazionale confermano il successo assoluto di questo modello esatto questa è la versione con le borse la facciamo vedere anche un'altra colorazione esatto versione con le borse laterali le colorazioni disponibili in realtà adesso ce ne sono due qua esposte in realtà poi sono quattro mancano la trophy e la tramuntana che è quella verde bellissima ok senti con i tempi di consegna come siete messi è proprio per il successo con i tempi di consegna adesso nota dolente però nota dolente siamo a luglio perché veramente da ancora prima che fosse disponibile il concessionario dall'uscita dalla presentazione di settembre siamo stati veramente inondati da richieste alla fine fra novembre e adesso c'è la lista d'attesa immagino per cui se mi interessa ragazzi dovete affrettarvi a chiamare isabella organizzare un incontro anche se però questo mi piace ricordarlo innanzitutto il 1300 gs apre una bella parentesi sull'usato che tratteremo magari un'altra volta assolutamente usato gs perché ragazzi sono delle moto pazzesche ma ce le presenterà in un'altra puntata però mi piace anche sottolineare che bmw non è solo il gs no esatto perché il difetto un po che c'è è che tutti parlano del gs però vi motivi per carità però bmw in realtà una gamma estremamente ampia di modelli che vanno a soddisfare anche chi per esempio col gs non si troverebbe per utilizzi o anche semplicemente per tipo di passione perché parliamo del gs come enduro stradale poi per esempio la vediamo qui passiamo al 1000 rr che invece è un genere sportivo con dei motori assolutamente spettacolari parati perfettamente per la pista anche quindi cambiamo proprio totalmente mondo sempre però come ti dicevo tecnologia altissima a livello ingegneristico sono dei gioielli e comunque anche l'occhio vuole la sua parte sì sì bella anche lei dà paura assolutamente io invece l'ho rapito da questa dall'S1000XR sì dall'XR perché trovo che sia a parte che è un segmento di questo che tira tantissimo nel mercato delle due ruote un po sulla falsa riga di quello automobilistico assolutamente perché questo unisce un po diciamo l'impostazione di guida più tranquilla con un quattro cilindri che niente ha proprio da invidiare a livello proprio di prestazioni anzi tendenzialmente questa moto una volta che la si prova tende a intimorire rispetto al guardarla così perché veramente non sembra perché ha un po un aspetto tranquillo diciamo in realtà proprio tranquilla non è ma si percepisce comunque tanta grinta in un look così molto beh poi la colorazione motorsport fa tanto perché BMW proprio la colorazione M la applica ai modelli che a livello di prestazioni sono quelli proprio veramente performanti che fa bene bellissimo quella è la zona dedicata all'usato ma la vedremo in un'altra puntata io cammino perché ho visto che sono là pieno di scatoloni per cui è arrivato l'abbigliamento nuovo esatto sta arrivando l'abbigliamento nuovo sia diciamo elementi di abbigliamento che manteniamo dalla collezione passata ma anche appunto delle novità importanti soprattutto a livello di abbigliamento tecnico perché vabbè ovviamente BMW va a coprire anche tutto il lifestyle ma quello veramente importante sono ovviamente tutto l'abbigliamento specifico per l'utilizzo moto quindi andiamo da giacche specifiche per l'enduro a giacche quattro stagioni multistrato per chi vuole semplicemente magari godersi il suo giro nel weekend o la vacanza in moto anche a cose invece più cittadine perché comunque BMW copre tutto un mondo di mobilità urbana e giustamente va anche a pensare a quelli che sono gli accessori necessari per il motociclista urbano e posso dirti anche secondo me è anche bello no vestire un capo con quel logo lì è spesso un motivo di vanto no? Eh sì lo si fa con un po' di orgoglio quando ce l'hai ce l'hai sulla moto a averlo anche addosso giusto diventa un po' un segno di riconoscimento distintivo ecco vedo una bella esposizione i caschi che comunque è uno degli oggetti più cari al motociclista assolutamente e ha ragione direi perché alla fine non ci tende a non pensarci ma il casco veramente salva vite e quindi è importante è importante avere qualcosa che protegga come deve e BMW in questo applica delle tecnologie specialmente la tecnologia MIPS che è molto famosa nel ciclismo e nello sci meno nelle moto però ecco quindi unire sicuramente la sicurezza e anche l'occhio come dicevamo prima alla fine l'occhio vuole la sua parte quindi con colorazioni anche un po' particolari soprattutto quelle fluo perché non dimentichiamoci che è molto importante essere ben visibile. Farsi vedere sì e all'estero c'è molta più cultura da questo punto di vista in Inghilterra, in Germania e in Francia il casco che si vede è un favore preferito rispetto a quello che magari è solo bello assolutamente e non solo per esempio in Germania essendo noi di casa madre tedesca sappiamo che è obbligatorio avere almeno un elemento catarinfrangente addosso che possa essere esatto dal gilet semplice alla giacca con gli inserti o banalmente anche al casco è obbligatorio ma fondamentale siamo d'accordo con i nostri con la casa madre certo ok senti io mi muovo ancora perché vado a vedere la zona dove ci sono degli scooter assolutamente diciamo il futuro rappresentato dall'elettrico Isabella? Assolutamente questo è il nostro CE04 che diciamo prossimamente è già stato annunciato già visibile sui social di BMW e sui nostri prossimamente sarà affiancato anche dal CE02 che sarà diciamo il fratello piccolo un 125 che uscirà anche in una versione guidabile con patente AM più piccolo più urbano proprio diciamo un nuovo concetto perché non sarà più lo scooter come questo che è ottimo anche per banalmente andare al lavoro per spostarsi ricordiamoci ha un'autonomia di 130 chilometri accertata quindi comunque consente anche una certa assolutamente quello più piccolo invece diventerà proprio un concetto di mobilità urbana diverso infatti BMW lo definisce l'e parkourer neanche lo scooter proprio un nuovo concetto e sono dei mezzi molto performanti perché ovviamente parliamo di elettrico quindi un'erogazione istantanea e comunque l'estetica è studiata proprio per massimizzare la performance dell'elettrico è talmente particolare che a me piace io adoro le cose un po' strane e questo seppur io non sia un grande sostenitore dell'elettrico trovo che sia affascinante perché mi piace chi osa allora guarda ti dico perché non tanti se lo ricordano in realtà questo non è il primo scooter elettrico di BMW ne fece già un altro quando lanciò il C400 e il C650 però fondamentalmente era uguale allo scooter endotermico semplicemente sostituito un pacco di batterie questa invece è stata la prima volta che BMW ha studiato un mezzo proprio solo elettrico quindi è stata proprio la rivoluzione di Motorrad dedicata all'elettrico bene ok qui vediamo tutto il resto della gamma con le GS310 però arriveranno anche questa è una zona particolare questa è una zona molto particolare questa è la zona heritage è la zona per quelli che sentono un po' di nostalgia verso un'estetica che a volte diciamo per la modernità si tende un po' a dimenticare quindi diciamo per i classicisti e qui infatti vediamo le 90 e ma soprattutto le R18 che sono una scommessa di BMW perché in realtà vanno a riprendere dei modelli storici della casa madre semplicemente ovviamente unendoli alle tecnologie all'ingegneristica moderna che rimane quel motore meraviglioso con quei cilindri lì 1008 bellissimo che BMW definisce Big Boxer perché ha un suono tutto suo particolare è appunto 1008 quindi devo dire che sono stupende sono veramente stupende da vedere da guardare immagino anche da guidare perché BMW fa delle cose guidabili innanzitutto guidabili però hanno scavato nel cuore veramente della memoria hanno scavato nel cuore hanno scavato proprio nella loro stessa storia per andare a ripescare qualcosa che era stato in realtà un successo e ovviamente qua di solito quando BMW decide di fare queste mosse le fa bene infatti vediamo che sono veramente bellissime come stai rispondendo il pubblico? perché magari qui non arriva il BMWista qua magari arriva qualche qui esatto qui arriva diciamo magari sempre il BMWista ma il BMWista che magari non ha più l'interesse del fare il viaggio breve l'avanti e indietro e tutto ma il BMWista che vuole veramente viaggiare in tranquillità e godersi proprio il viaggio perché queste sono moto che ti concedono proprio anche per come sono fatte di stare comodo e di goderti il tuo viaggio quindi è proprio un ramo a parte ecco bello ma è giusto che sia così va bene allora Isa noi ci vedremo credo nelle prossime settimane sicuramente vogliamo già fare un invito per il 24-25 che c'è un fine settimana importante assolutamente perché come ogni anno BMW lancia la sua start of season il via alla stagione ufficiale della moto quindi open weekend dal 24 al 25 e quindi anche domenica in cui però non sarà solo start of season ma si presenteranno anche tre modelli nuovi ok quindi un rinnovamento di gamma ovvero la F800GS la F900GS la F900 AdventureGS e ti dirò di più con la possibilità di provarne anche alcune su strada per cui chi sta guardando cosa deve fare? prenotare il test ride o si arriva e ci si organizza? no chi sta guardando può da domani andare sul sito test ride now di BMW Motorrad selezionare Varese come sede e vedere tutta la gamma delle moto che saranno probabili appunto quel weekend quindi non solo le novità ma anche proprio le moto che abbiamo in gamma da un po' saranno tutte probabili bello perfetto noi Isabella ci vediamo nelle prossime settimane assolutamente per parlare di tutto il resto che riguarda il Bike House Varese è stato un piacere conoscerti grazie della fiducia noi ci vediamo ai prossimi filmati tutte le indicazioni e i riferimenti li trovate su questo video Isabella e tutto lo staff di Bike House Varese è a disposizione per voi assolutamente grazie mille ciao arrivederci